bene e dopo una settimana la gente non va a andare a controllare se il mio piano è funzionato andiamo sul nuovo video oh ecco ti ho trovato garvis signore mi serve il tuo aiuto devi localizzare l'ep di questo messaggio e devi dirmi il stato posto in cui si trova ok bene fatto signore oh eccolo bene fatto signore una domanda ma se dire soltanto fatto signore fatto signore ok va bene ad ogni modo prima devo fare il nuovo video e dopo mi metterò in viaggio salve a tutti amici benvenuti in questo nuovo video oggi siamo qui ritornati finalmente con la seconda uscita del PK Transformer l'ho ritirato in piccola questa mattina questa volta ho cercato di essere più puntuale col video dato che la scorsa settimana è arrivato un buon ritardo comunque questa settimana ci si presenta questo fumetto un pochettino con questo bel celofan e il pezzo insomma il cartone senza cartonato come siamo abituati a vedere sempre eh vabbè comunque niente adesso direi di andare ad aprire sperando che almeno il fumetto non sia rovinato ok non c'è moltissimo da dire adesso andremo a vedere i pezzi più da vicino eccoli qui i pezzi eccoli qui e già guardate cioè già praticamente è metà del PK Transformer è nostro praticamente guardate già qui abbiamo una ruota il pezzo davanti e un'altra scocca mezza scocca e praticamente è già quasi completato ragazzi cioè assurdo vabbè comunque qui abbiamo è tutto un pezzo unico quindi qua abbiamo un'altra scocca qui abbiamo il pezzo davanti la ruota che però non è completa quando pare dato che mancherebbe un gopertone o qualcosa simile di simile abbiamo un cartoncino abbastanza carino dietro guardate qui con i disegni della moto è molto molto bello e poi qui andiamo a vedere il nostro numero con il secondo episodio della nostra bellissima saga la nuova bellissima saga PK il raggio nero guardate qui come diavolo è combinata cioè praticamente questa colla ogni volta rovina sempre le copertine dove ho rimosso la copertina questa robaccia andiamo a vedere questo foglietto che tra l'altro questo foglietto qui che c'era incluso praticamente che niente cioè una volta mettevano i foglietti dell'abbonamento dentro adesso mettono i foglietti delle tazze della Disney beh comunque copertina con PK guardate qui che bello PK il raggio nero episodio 2 nel retro pubblicità insomma di che apriamolo barzelletta immangabile di Silvia Ziche avete letto? dai forza qui ok pubblicità ancora sfogliamo sfogliamo vabbè qui c'è il secondo episodio della storia che non vi spoilerò come al solito dovete essere voi e qui eccolo qui guardate qui già la pubblicità il PK Robot che arriverà tutti in un'unica uscita a 12 euro e 90 ovviamente io lo prenderò ci farò un bel video dopo vedremo un pochettino come funziona e faremo anche questa combinazione qui vabbè vediamo gli evroniani come al solito ok bene niente numero abbastanza classico vediamo se questa volta c'è scritto cosa troveremo la prossima settimana no non c'è scritto vuol dire che sarà scritto qualche altra parte del numero non so dove comunque vedremo insomma sono abbastanza soddisfatti di questa uscita credevo peggio cioè credevo che proprio questo video sarebbe durato 10 secondi perché non avevo nulla da farvi vedere però il numero cioè sembra promettere abbastanza bene quindi ragazzi questo video finisce qui spero che vi sia piaciuto andate vi consiglio di visitare la pagina di facebook iscrivetevi al canale mettete mi piace sempre se volete e quindi io vi ringrazio per la visione e ci vediamo alla prossima ciao ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.